Amici 3D Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni a media e lungo termine, ma oggi vorrei sottolineare un aspetto importante, e cioè il fatto che questa estate e quest'agosto avrà caratteristiche estive ancora per diverso tempo. Da alcune parti si sente dire che dal 6-7 di agosto la situazione cambierà in maniera decisa, invece la risposta è no, non è vero. L'estate andrà avanti almeno fino a ferragosto, non si intravedono grandi interruzioni. L'unica cosa vera è che settimana prossima aria un po' più fresca diretta dal nord Europa verso l'est europeo lambirà l'Italia, quindi magari qualche temporalino torneremo a vederlo la prossima settimana e le temperature caleranno di qualche grado, ma rimanendo sempre su valori estivi, anzi nella maggior parte dei casi sempre su valori al di sopra della media. Insomma, non temete, l'estate va avanti e alla grande. Con questo è tutto, vi aspetto per dettagli su trebimeteo.com.